Al comando per un attimo Iubris, poi è Lapsus che si porta al comando davanti a Voila la Profusion con all'interno Iubris, poi Tramozza, ancora Sebi Fly con in coda Lofritz. Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con Lapsus che prosegue al comando davanti a Voila la Profusion, quindi Iubris per linee interne in quarta posizione Tramozza che precede Sebi Fly con in coda Lofritz. Posizioni invariate lungo l'arco della curva e Lapsus affronta al comando la retta di arrivo, al suo inseguimento Voila la Profusion lungo la corda trova il barco anche Iubris che si profila all'interno del leader, poi Tramozza, Sebi Fly e Lofritz. E' passata Iubris nei confronti di Voila la Profusion, Cala Lapsus, Iubris all'interno, Voila la Profusion al suo attacco, poi Sebi Fly che si propone al largo dei due davanti a Tramozza e Lofritz. Siamo a 200 dal palo con Sebi Fly che sta scattando a centropista nel tratto finale, Sebi Fly sta prendendo il sopravvento e si impone mentre per il posto d'onore sono vicinissimi Voila la Profusion, Iubris e Tramozza. Rivediamo le immagini con la bella affermazione di Germano Marcell in sella a Sebi Fly, numero uno dello schieramento al posto d'onore, più incerta la lotta tra Voila la Profusion all'esterno di Iubris e Tramozza a largo dei due, quindi bisognerà aspettare il risponso del giudice di arrivo. Grazie.